Il nuovo costruttore cinese prossimo al debutto in Supersport è giallo, è giallo sulla storia, sui retroscena, sulla moto che secondo qualcuno è pronta, secondo qualcuno no, su tutta una serie di interlocutori che si sono avvicendati e tutta una serie di dettagli e vi metto anche le foto belle visibili della motocicletta smontata con tutta una serie di valutazioni e dati tecnici. Volete vedere? Eccolo qua, ecco il video. Sigla. Ciao da Mr. Realmente, questa è la storia di QJ, che dovrebbe debuttare in Supersport nel 2024, dovrebbe, il condizionale è d'obbligo per tutta una serie di situazioni che vi chiarirò, vi racconterò di dettagli, di retroscena, di colpi di scena e tutta una serie di si può e di non si può, compresi i soldi. Va bene, allora intanto vi dico una cosa, vi dico che se vi piace tutto questo iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, scoprite come potete supportare Mr. Helmet con lo shop, le donazioni, i super stickers e i super grazie e l'abbonamento. Ce ne sono di light, con tutto compreso, tranne, insomma, vabbè, alcune situazioni live e poi ci parte da tre centesimi al giorno, poi per gli sugar daddy, super supporto, ci sono le anticipazioni, la chat dedicata, i sondaggi, i one to one e tutte le cose che facciamo. Allora intanto vi dico, QJ è arrivata con ambizioni un po' fuori misura, voleva fare la superbike e gli hanno raccontato, guarda, aspetta, forse è meglio che parti della super sport perché, insomma, con delle valutazioni perché la superbike non ce l'hai, la moto 600 ce l'hai? Sì ce l'ho perché, ok, però come pilota vorremmo Petrucci, Petrucci, ma forse, forse un po' tanto, insomma, gli hanno spiegato che la situazione era un pochino complessa dal punto di vista delle corse, che non basta avere una moto, ma bisogna avere gli interlocutori giusti per svilupparla e fare tutte le cose. Quindi, cosa è successo? che a QJ, a QJ sono stati proposti alcuni, e a QJ e i suoi intermediari, no? I suoi intermediari sono stati proposti alcuni dei protagonisti del racing europeo, nello specifico del racing italiano, che insomma non ha niente da invidiare a nessuno. Allora intanto non vi dico chi è QJ perché volete tranquillamente cercarla e scoprire che ci sono, che stiamo parlando di un colosso, però è un colosso che non è che, diciamo così, sia praticamente votato alle moto di un certo tipo vicine a quelle che vuole far correre, ma un colosso di un altro tipo, è un newcomer, ha un certo tipo di esperienza e ha, come diciamo così, grosso delle sue vendite delle moto abbastanza cheap, economiche, quindi non è proprio come CF Moto, ecco, per intenderci che ha già un DNA di un certo tipo, grazie anche alla parte Civic con KTM, ha delle moto sul mercato, tutta una serie di situazioni. QJ è un marchio che abbiamo visto sponsorizzare Gresini, ma che però insomma non ha esperienza né di corse né di moto di un certo tipo. Benissimo, gli hanno spiegato che doveva rivolgersi ad alcuni interlocutori. Gli interlocutori che gli sono stati presentati sono il fiorfiore delle corse italiane per le derivate di serie. Mi spiego, al signor QJ, tipo Franco QJ, chiamo così, i suoi emissari, e a Stefano, diciamo il suo emissario europeo, diciamo così, il Landyman, il Fattotum, il Tramite, è stato presentato Genesio Bevilacqua per Altea, Marco Barnabò per Barney, poi il team di fatali evangelisti per il team Evan Brothers, che sono abbastanza noti nella Supersport, e poi anche la struttura di Davide Giuliano, insomma, impegnata in Supersport, probabilmente perché era già a Roma, eccetera. A questo si è aggiunto Manuel Puccetti, che in realtà era stato il primo degli interlocutori, in quanto, diciamo, quello istituzionale, diciamo così, suggerito da Dorna. Ok, allora, io mi sento di ipotizzare sotto questo aspetto che Altea forse fosse avvantaggiato, però poi, insomma, questi rumor si sarebbe tirato indietro dopo una serie di situazioni. Appena vista la moto, che sarebbe stata pesata, misurata e trovata, diciamo la verità, insomma, molto molto lontana da quello che serve per poter fare le corse. Stessa cosa, naturalmente, per Barney ed Evan Bross. Le foto ve le farò vedere e vi spiegherò tutto quanto. Ok? Mi sento di ipotizzare questo. Non che QJ non possa fare le corse e che non sia in grado di fare le corse, ma che, secondo le figure interpellate, e parliamo, quindi vi ripeto, del top del super sport e della superbike in Italia e quindi nel mondo, diciamo che QJ non può fare, non potrebbe fare le corse in questo modo, non adesso, non subito. Ok? Quindi la richiesta, il consiglio, il suggerimento sarebbe stato, da parte di questi signori, quello di fare, come posso dire, finto che questa moto, questa volta non, diciamo così, non ci sia, non ci fosse, e di progettarne un'altra che nascesse, diciamo che potesse nascere già garabile, raceable, cioè già ingareggiabile, non so se esiste gli aggettivi giusti così, però insomma qualcosa che possa fare le gare, è omologabile da subito, quindi costo dell'operazione prevista per una domanda del genere, lo sapete, qualche milione e tempo previsto, un paio di annetti, forse anche qualcosa in più, perché insomma bisogna fare tutte le parti racing, bisogna fare l'engineering, bisogna fare il disegno, bisogna fare la prova, bisogna fare i test esclusivi, bisogna fare l'omologazione, è tutta una roba che è necessaria, insomma manca proprio tutte le parti speciali, le sospensioni, eccetera, anche se diciamo la verità la moto attuale QJ è molto di ispirazione Honda, molto di ispirazione Honda, diciamo così. Allora tenete conto che tutte queste analisi sarebbero state fatte non al volo, guardando le fotografie, come faremmo noi fra un po', ma sul posto, quindi smontando la motocicletta, in alcuni casi, la motocicletta non è specifico chi ha fatto cosa, lo so, però insomma non mi va di mettere in mezzo delle persone che probabilmente non gradiscono, poi non è utile al discorso, però tendenzialmente sono stati forniti dei report tecnici ai cinesi molto dettagliati e questi diciamo così parlano di una motocicletta che è abbastanza lontana dalla possibilità di fare il racing, quindi sono sicuro che comunque non sarò smentito. Quindi il più possibilista alla fine sarebbe stato, dovrebbe essersene anche parlato, più che il più possibilista e il meno impossibilista con tutte le cautele del caso che immagino vorrà prendere, perché parliamo sempre comunque di professionisti, sarebbe stato Puccetti che avrebbe convinto i cinesi dal punto di vista di essere l'interlocutore migliore, giusto per l'affidabilità, quindi la giusta via di mezzo fra affidabilità, capacità, costi, probabilmente richieste economiche, vabbè funziona sempre così quando si trova un accordo uno rispetto ad altri, c'è chi non vuole, c'è chi invece vuole ma non trova l'accordo, c'è chi invece, insomma, insomma, vabbè, non voglio dire che Puccetti sia stato l'unico a volerci provare, a volerci provare veramente perché questa informazione non ce l'ho, però diciamo che è il risultato il prescelto. Il problema è che questa motocicletta al momento è difficile che possa fare le corse, secondo, diciamo così, il pensiero comune di tutti gli interlocutori più o meno interpellati, poi se qualcuno di questi nomi che ho fatto non è stato veramente interpellato e mi sono sbagliato, mi scuso, se ne ho dimenticato qualcuno, mi scuso, però insomma, penso sia chiaro il carattere ipotetico di quello che sto dicendo. Allora, è una moto e ve la faccio vedere, ok? Mi metto anche piccolino così. È una moto che pesa 230 kg di suo, ha un telaio che è, diciamo così, ha un telaio che è tutto ad un pezzo senza snodi sul telaietto, quindi questa cosa potrebbe diventare abbastanza problematica nel caso ci fosse una caduta, insomma, si rischierebbe la torsione del telaio e tutto il resto, dopodiché ha un motore abbastanza ciccione, lo vedete qua, con un carter abbastanza sporgente e quindi anche abbastanza, come posso dire, asimmetrico, ok? Quindi un motore anche abbastanza pesante, secondo alcune specifiche per chi l'ha smontato, abbastanza lontano da poter fare le gare. Tenete conto che noi parliamo di un'azienda, della QJ, che produce come top seller, come best seller, questi motorini di plastica qui, che vengono venduti, sono elettrici, a 300 euro, quindi è chiaro che non stiamo parlando della Ducati cinese, no? Che come potrebbe essere CFMoto, ma di un'azienda che sta crescendo a ritmi vertiginosi, ma che comunque è grandissima, come tutti i colossi cinesi, ma che comunque è lontana dall'essere un protagonista delle corse. Tornando al telaio che pesa una sessantina di chili, lo vediamo qui, non ci sono snodi, insomma, il motore pare abbastanza largo e pesante e quindi mancano ovviamente tutta una serie di predisposizioni per il racing, ok? Quindi è chiaro che qui tu devi fare tutto un lavoro anche a livello di carene, situazione eccetera, pedane dove sono posizionate pedanine, link, pianto frenate, forcelle, piastra di sterzo, cioè deve essere fatto tutto un lavoro che va oltre la gareggiabilità, cioè qui è una moto progettata molto probabilmente per fare del touring di un certo tipo e quindi anche su un motore, insomma, la capacità di questo motore di poter viaggiare ad alti regimi a lungo o di potersi permettere, diciamo così, delle scalate, insomma, c'è tutto da valutare, ok? Non entro nei dettagli perché non li ho. La moto, la vedete questa? Questo è il prototipo fotografato, non vi posso dire dove, ma insomma in uso, perché quello lo vedete è bello sporchino che è in uso ed è, mostra una motocicletta abbastanza grossa, abbastanza cicciona, che è, insomma, abbastanza connotata dal punto di vista touring, insomma, più che è abbastanza anche touring tranquillo. Quindi questa è la vista dall'alto, quindi la moto è abbastanza, questa è, queste sono le pedane, le pedanine, il telaietto e tutto il resto, scusate il numero esagerato di loghi, ma qui si rubano tutto. E poi questo è il carter che, insomma, lo possiamo dire, è abbastanza ciccio. Un po' di dettagli, poi se troverete l'articolo, troverete il link all'articolo di Mr. Ellen, pubblicherò anche le foto e potrete guardarle con più tranquillità al di là del video, ok? Andiamo avanti, vi faccio vedere che c'è tutta una serie di una situazione di, come posso dire, di lontananza dalle moto da corsa, come le abbiamo sempre viste fare dai giapponesi bravi e dagli europei anche molto, molto più bravi, no? Nello specifico. Quindi vedete che insomma la motocicletta ha un certo tipo di connotazione, ok? Questo è il carter sinistro, quindi vedete un pochino di dettagli e particolari. Non sono stato tirchio di fotografie, ok? Anche se non vi dirò dove me le sono procurate, che però è una QJ direi che si può notare, ok? Anche qui e anche dal carterone che vi inquadro, ok? Questa moto sta girando abbastanza e sta, come posso dire, viaggiando per essere testata, eccetera. Anche se secondo chi l'avrebbe vista e ne avrebbe fatto un'analisi tecnica anche molto, 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 molto accurata, è molto lontana da poter fare le corse, ok? Allora, qual è la situazione, la fattispecie? La fattispecie è che ci siano, come posso dire, ipoteticamente delle difficoltà nel poter considerare questa motocicletta come una moto che possa gareggiare senza essere pericolosa per chi la guida e per gli altri piloti. Questo è un altro discorso, è una valutazione che faccio, mi posso ovviamente sbagliare. È una motocicletta che può presentare delle situazioni abbastanza sfidanti dal punto di vista dell'omologazione ed è un lavoro abbastanza critico per chi lo deve portare a termine, perché teniamo conto che i cinesi non regalano soldi così come non li regalano gli arabi così come non li regalano gli sheik, perché i cinesi ovviamente fanno degli accordi e poi vorrebbero anche che fossero rispettati. Quindi non è chiaro il motivo per il quale QJ non si sia rivolto già a Gresini, no? Che ha una factory sicuramente molto importante, non me ne vogliano gli altri nomi che ho fatto qui nel video riguardante la Supersport, ma probabilmente a Gresini devi aver detto, guarda, se vuoi fare la Superbike o la Supersport in questa situazione è abbastanza difficile che tu lo possa fare con questa moto qui. Ora, io non conosco, diciamo così, i presupposti degli accordi che sono stati presi se la moto è prevista che gareggi quest'anno, se deve gareggiare questa moto e quindi ci si lavorerà sopra, se se ne disegnerà un'altra ex novo, però insomma è abbastanza difficile poter pensare che questa, se la moto è questa, esattamente questa, possa andare a competere con la situazione attuale delle motociclette che gareggiano nel mondiale Superbike attualmente. Quindi, questo mi sento di spenderlo, ecco, avendo visto anche le difficoltà che inizialmente ha avuto Ducati, insomma, e tutti gli altri, ed EMV e Triumph, insomma, mi sembra abbastanza difficile. E poi mi sembra abbastanza, diciamo, una situazione che potrebbe magari derivare in qualche difficoltà, tipo quelle che successe con EBR, ve la Ducati, ve la ricordate? La Superbike, Eric Buell Racing, che prima era Buell, poi diventò EBR con la chiusura di Buell, oppure anche la Hero, oppure anche altre situazioni in cui, cioè, voglio dire, chi paga e sponsorizza ha un'aspettativa perché gli sono state dette delle cose o hanno compreso delle cose e poi sul campo si trova che i tempi sono più lunghi, i costi sono più alti, le difficoltà sono più, sembravano meno insommotabili, invece è un bel casino e quindi poi dopo ci potrebbe essere, diciamo così, una distonia, un disallineamento fra le aspettative contrattuali e invece gli output messi fuori, cioè l'investimento e il risultato. Questo non è affare mio, non mi interessa, però dal punto di vista del retroscena penso e spero di avervelo raccontato tutto. Ci sono dei cinesi che vengono per fare le corse e vorrebbero fare la Superbike, gli fanno capire che sarebbe meglio facessero la Supersport, gli presentano tutta una serie di situazioni, queste situazioni, questi interlocutori fanno capire che il problema che è molto, come posso dire, più complesso del previsto fare le corse della Supersport in un certo modo, però poi alla fine trovano un accordo e quindi molto probabilmente partiranno con una sperimentazione di un qualche tipo da capire se questo tipo di discorso andrà in porto. Quindi non è semplice, non è semplice, non è detto che non si faccia, ma QJ ha, diciamo così, degli ostacoli abbastanza difficili da superare. Li supererà con Puccetti, che mi pare, se non mi sbaglio, essere l'interlocutore prescelto o no, bisognerà rimandare o no, se sono già pronti o no, sono già andati avantissimo e io sono rimasto indietro con le informazioni quindi mi mancano dei dettagli o no. Ditemi voi cosa ne pensate di questa situazione e comunque benvenuti tutti i nuovi interlocutori che scuotono e agitano il mondiale delle derivate di serie, che mi sembra essere veramente quello l'unico che offre delle vere sorprese industriali e situazionali e non solo l'engagement e la fuffa e, come posso dire, il marketing e il social media. Mi sembra che da questo punto di vista la Superbike sia molto più concreta. Cosa ne pensate? Ciao da Mr. Helmet.